Comunque ragazzi, io direi che possiamo giocare a The Medium, che ne pensate? Siamo a 40 minuti di live, una giocatina a The Medium la possiamo anche fare un'oretta Beh? Ma non ho capito ma... E' attacca... ok Beh? Boh, non funziona il pad! Eh, lo farò con mouse e tastiera però, che pagno cazzo, no Vabbè, provo, ma che due coglioni, cioè non ho il flow, ce l'avevo col pad, cristo, con mouse e tastiera E' scomodo in una maniera che non vi so spiegare, mamma mia Mamma mia Beh? Rincoglionita! Ah no, ok Vedi, vedi, vedi perché mi incazzo, porco di diaz Mi incazzo per questo, perché premo un tasto ed è quello sbagliato, perché ovviamente Guarda, 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 porco demonio, guarda, guarda, guarda Una rincoglionita Mamma mia, cioè, non puoi spostare le camere, quindi devi usare i tasti Guarda, guarda, guarda come cammina Siccome c'è un'impostazione grafica del 1997, sto gioco Che sarà anche carino, ma... Ma Dio buono, io capisco l'omaggio, però siamo nel 2021 Adeguiamoci Narrativamente è una bomba, comunque Ma... Ma... Ops Sì, sì, sì. che cazzo di schifo è sto cosa zio ma che merda è ma che piramide dei poveri è schifo la litosi ok sono morto potevano anche fare la più breve l'animazione ma vedete perché volevo il cristo avete capito perché mi sono incazzato porco di tia ma per il pad avete capito perché mi sono incazzato per il pad porco di tia stupido 50 tasti ma come cazzo fai e prendi col miglioro questo e quell'altro ma un gioco così non lo puoi giocare con la tastiera ma per cortesia che nervoso cazzo che nervoso dio porco non puoi guarda come cazzo fai che non gira porco di tia se io potessi girare col mouse non avrei problemi ma non gira col cazzo di mouse è questo il fatto non gira col mouse non mi gira porco 2 devo usare il was per girare ma come cazzo fai non ce l'ho con te ce l'ho con questo gioco di porco come fai non gira devo fare porco ma dai ma porco no ma perché ti sei fermata ma brutta rincoglionita ma che cazzo ti fermi ma stavo premendo ma stavo premendo maledetto omina maledetta le cosa non ti fermi non ti sei fermi ma se ti fermi ti ammazzo giuro ti fermo io come si fa è impossibile così così si può fare non è fattibile allora il prossimo che dice stay focus non fate i saputi se fate i saputi vi disinterno proprio virtualmente vi porto in un posto migliore nella live di un altro giuro no perché sei non tanto difficile non so perché ho delle rivest da gemelli da chi parla no ma non si può fare cioè ragazzi è impossibile ma come cazzo fai oh god non è va ma perché vai così brutta rincoglionita di una deficiente perché fai così ma se io sto premendo spuccozzo di tasto con sta faccia di merda ma perché ti fermi se la stavo facendo quindi vuol dire è fattibile il problema è che con la tastiera è un casino perché se come in ogni gioco normale da quando esistono i giochi per computer il mouse servisse qualcosa io ti ammazzo devi correre devi correre come se avessi il diavolo dietro a proposito ce l'hai vabbè vabbè ma allora ma dillo dillo che sei una str- no no il mouse non gira il mouse non gira il mouse non gira cazzo il mouse non gira no no rincoglionita no sì è fattibile un cazzo è fattibile no l'avevo fatto brutto stronzo va no 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 l'incoglionita è fattibile no 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 ma perché è brutale no 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 ascolta mi erba io capisco che tu vuoi aiutare ma se ti dico che non va il mouse sarò stronzo o effettivamente ti sto comunicando che non va il mouse se andasse il mouse lo farei è che sono stupido cristo non va il mouse punto non va questo cazzo di mouse però cioè non corre non corre cioè non lo so è veramente non puoi non puoi ti spacco tutto con un con un con un tasso sì una serata a tutti i ragazzi vi ringrazio infinitamente per avermi seguito per le sub per le donazioni di biz e tutto e ci vediamo su questo canale domani sera con Vicherobo un bacione vi voglio bene grazie per avermi seguito ciao ragazzi grazie per avermi seguito